Buonasera, benvenute e benvenuti al TG6 edizione della sera. In apertura i numeri aggiornati a quest'oggi dell'emergenza sanitaria. Ancora un più tre per quanto riguarda l'aumento dei positivi al Covid-19 nella nostra regione. Cresce anche il numero delle vittime con un deceduto nelle ultime 24 ore. Alfredo Primante. Così come era accaduto nella giornata di ieri, anche oggi si registrano tre nuovi casi di positività al Covid-19 su un totale di 887 tamponi analizzati, lo 0,3% di positivi sul totale. I test come sempre sono stati eseguiti nei laboratori di Pescara, Teramo, Chieti e L'Aquila. 109 sono i pazienti, meno tre rispetto a ieri, ricoverati in terapia non intensiva, tre invariato rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 592, meno 29 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 415 pazienti deceduti, più uno rispetto a ieri. Il decesso di oggi infatti è riferito a una 93enne di Montesilvano. 2.136 sono i dimessi guariti, 1.994 le persone che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultate negative a due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati dunque sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi guariti e dei deceduti, sono 704 con una diminuzione di 32 unità rispetto a ieri. Complessivamente in Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 3.255 casi di positività al Covid-19. 247 si riferiscono all'Asl Avezzano-L'Aquila-Sulmona, 824 all'Asl Lanciano-Vastochieti, 1.526 all'Asl di Pescara e 658 all'Asl di Teramo. Nel loro complesso i test eseguiti sono stati 79.720, di cui 73.412 sono risultati negativi. E a proposito di Covid, dimesso dall'ospedale Mazzini di Teramo, l'ultimo paziente guarito dal coronavirus dopo tre mesi di estenuante lavoro chiude così la speciale rianimazione Covid del nosocomio teramano. Al Mazzini ora si tira un sospiro di sollievo, ma nessuno abbassa la guardia. Tania Bonici-Castelli. Chiude per assenza di pazienti la rianimazione appositamente allestita per i malati di Covid-19 all'ospedale Mazzini di Teramo. Anche l'ultimo paziente affetto da coronavirus è risultato negativo e dunque dimesso. A tutto il personale medico e sanitario del reparto di anestesia e rianimazione del nosocomio teramano va la gratitudine dell'intera città. Dopo aver lavorato per settimane lontani dai propri cari e sostenendo turni di lavoro estenuanti, i rianimatori del Mazzini tirano un sospiro di sollievo, ma non abbassano la guardia. Il direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, Stefano Minora, ripercorre i mesi appena trascorsi. Qui da noi per fortuna siamo riusciti a chiudere con l'ultimo paziente che si è negativizzato nei giorni scorsi. Siamo felici che siamo arrivati a questo punto per il semplice motivo che era uno stress grande per tutti i colleghi, per gli infermieri, perché i nostri organici non sono così pieni. Per cui tutti si sono sacrificati, hanno lavorato a ritmo pieno, mesi senza nessun giorno di ferie e direi che il chiudere intanto per i pazienti ritengo che sia cosa importante e anche per il personale che ci ha lavorato secondo me è un bel traguardo raggiunto. I ricoverati in rianimazione Covid al Mazzini di Teramo sono stati 11 e il tasso di mortalità molto basso. Inoltre nessun medico o operatore sanitario del reparto è rimasto contagiato dal virus. Abbiamo avuto una buona sopravvivenza, direi che c'è stato un ottimo risultato, abbiamo avuto una sopravvivenza oltre il 60%. Sono risultati importanti perché sicuramente siamo in linea con le rianimazioni più accreditate anche di altri posti. E se mai il coronavirus dovesse ripresentarsi ad ottobre? Il Mazzini come si farà a trovare? La speranza ovviamente è che non accada. Se dovesse accadere abbiamo intanto quei posti lì che sono presenti al terzo lotto rimarranno e poi ci stiamo organizzando con due posti all'interno della rianimazione generale con tutte le caratteristiche di pressione negativa, di isolamento, di uscita a parte eccetera, per eventualmente se necessario accogliere uno o due pazienti. Se poi, e la speranza di tutti è quella che non accada, dovessero aumentare i numeri, abbiamo a disposizione ancora per un bel periodo i posti che sono stati allestiti nella ex psichiatria per intenderci. Dottor Minora, che insegnamento ci lascia questa pandemia? Che non siamo immortali direi, ma lo sapevamo già. Però voglio dire, al di là della battuta, secondo me ci ha insegnato che bisogna sempre rimanere con i piedi per terra e forse che tante cose futili a cui oggi stiamo dietro, insomma c'è da ripensarci un attimino. Parliamo ora di ricerca. Il complesso immobiliare, un tempo sede del Mario Negri Sud di Santa Maria in Baro nel Chietino, istituto scientifico di rilevanza internazionale che state vedendo ora nelle immagini, ha giudicato per 10 milioni e 700 mila euro all'AMIL del Lazio, l'associazione mutilati invalidi del lavoro nata nel 2006. È una ferita che si rimargina per la provincia di Chieti e speriamo possa riportare nel nostro territorio un'esperienza di ricerca di livello internazionale, ha detto il presidente della provincia di Chieti, Mario Pupillo, subito dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte. La procedura per la vendita dell'immobile adibito a centro di ricerche biomediche e farmacologiche era stata prorogata il 27 maggio a causa dell'emergenza Covid. Le offerte depositate entro quel termine sono state visionate stamane e ad aggiudicarsi la gara è stata l'associazione di promozione sociale presieduta da Osvaldo Travaglini. 10 milioni di euro che entrano nel bilancio della provincia di Chieti e danno una boccata d'ossigeno oltre che al bilancio dell'ente al territorio che avrà di nuovo un istituto di ricerche biomediche e farmacologiche. L'attività biomedica e sociale, conclude Pupillo, dovrà continuare a essere un punto d'incontro tra le risorse del territorio e il contesto nazionale e internazionale. Torniamo ora sull'emergenza sanitaria. Il 12% dei residenti di Villa Caldari di Ortona che si sono sottoposti a test sierologico sono risultati positivi e dunque capaci di sviluppare anticorpi. Questo è il risultato di un progetto pilota di ASL e Comune di Ortona. Paolo Lorenzetti. Comune di Ortona è stato protagonista di un progetto pilota nella nostra regione in collaborazione con la ASL di Chieti Lanciano Vasto con l'analisi test sierologici e tamponi della cittadinanza di Villa Caldari di Ortona, ex zona rossa della nostra regione. Cosa è venuto fuori, Sindaco? È venuto fuori che il 12% delle persone sottoposte a prelievi è risultato positivo. Quindi questo significa che ogni 100 persone 12 sono risultate positive. Questo rafforza la nostra convinzione che era giusto in quel momento istituire la zona rossa perché abbiamo tutelato sia la salute dei residenti di quella frazione di Villa Caldari ma anche tutto il bacino, tutto il territorio perché basta pensare a cosa poteva succedere qualora queste persone fossero andate in giro quindi probabilmente contagiando anche altre persone. Quindi è stato un progetto pilota come è stato ben detto dove il Comune ha impegnato anche, c'è stato anche un impegno economico da parte del Comune insieme alla ASL e questo ci tranquillizza e ci fa guardare il futuro in un modo migliore. Passata la prima fase dell'emergenza, Sindaco, ma è giusto non abbassare la guardia? Qual è la situazione a D'Ortona e anche a Villa Caldari per quanto concerne i positivi? Assolutamente non bisogna abbassare la guardia, io dico sempre non è un problema di Villa Caldari, di Ortona è un problema di tutto il nostro paese, dobbiamo comportarci come ci viene detto, dobbiamo ripartire sicuramente, ripartire a vivere la nostra quotidianità ma sempre con tutte quelle precauzioni che sono appunto dettate dalle norme e da tutti i dispositivi. Quindi la situazione ad Ortona è tranquilla ma io non abbasso la guardia, invito i cittadini, soprattutto i giovani perché gli ultimi dati danno ancora positivi in Abruzzo e soprattutto è modificata l'età media che adesso riguarda i giovani. L'appello che faccio è quello a loro ma a tutti, anche ai pubblici esercizi di far rispettare le regole perché poi il ritorno potrebbe essere negativo per tutti. La guardia è alta ed è giusto così ma si guarda anche alla stagione turistica. Sindaco che appena è iniziata come amministrazione comunale, state lavorando comunque per far sì che i turisti che arrivino ad Ortona possano giovare delle bellezze e soprattutto del mare? Certamente, godere delle bellezze, del patrimonio della nostra città, tutto in sicurezza, quindi sarà un'estate diversa, un'estate prudente, dalle spiagge al centro storico dove ci saranno degli eventi, ma saranno eventi contingentati, eventi che si svolgeranno in luoghi ben definiti della città dove verranno apposte tutte quelle precauzioni per far godere in sicurezza i vari spettacoli ai turisti. Questa mattina a Roseto degli Abruzzi c'è stata la consegna dei lavori per la realizzazione del porto turistico alla ditta Costruzioni Generali Xodo SRL. Consegnati questa mattina i lavori del nuovo porto turistico di Roseto degli Abruzzi, l'investimento è di 1.700.000 euro del masterplan e l'opera dovrebbe essere completata in sei mesi. Meglio tardi che mai, esulta il circolo nautico. Questa struttura che naturalmente è una struttura antica, tra le più antiche della regione e tra le più gloriose della regione per l'organizzazione di gare internazionali e nazionali, di gare di motonautica, di vela, di pesca eccetera eccetera, ha un problema proprio di sua ubicazione fisica cioè è adiacente al fiume Romano e pertanto risente delle problematiche appunto di questa adiacenza. Questa che dobbiamo realizzare è una parte di messa in sicurezza lato mare che poi bisognerebbe completarla con un ulteriore finanziamento, comunque è la parte grossa della messa in sicurezza lato mare. Naturalmente darebbe un impulso notevole allo sviluppo portuale perché insomma, fatti tre quarti dell'opera, parlo della messa in sicurezza lato mare, sembrerebbe opportuno poi completarla. Finalmente perché ho sofferto tanto a sollecitare questo intervento, l'ho sollecitato tante volte, ringrazio ora la provincia che ha smosso le acque. Certamente ci sono stati incidenti di percorso non addebitabili nemmeno la provincia stessa perché c'è stata un'impresa prima giudicataria che ha manifestato dei problemi, poi si sono scattati i meccanismi per la sostituzione di questa ditta e devo dire che l'attuale Presidente e le attuali amministratori provinciali hanno dedicato molta attenzione a questo intervento. Andiamo a fare questo braccio a mare con 1.700.000 Euro e oltre dei fondi masterplan deliberati a suo tempo dalla regione Abruzzo, andiamo a creare quindi un bacino che dovrebbe accogliere secondo quelli che sono i propositi che mi sono stati rappresentati i pescatori, storicamente questo è un porticciolo turistico ma accoglie anche i pescatori di Roseto, quindi andiamo a dare un servizio ai pescatori di Roseto e andiamo a fare un primo intervento di difesa di questo porticciolo. Le città del mare sono il benessere della nostra provincia di Teramo, il Roseto con il suo porticciolo dopo tanti anni vedrà un'opera che oramai era quasi un'illusione, io sono sempre per la speranza, ero certo di realizzare quello che non si è realizzato nel tempo perché oggi non è neanche un problema di soldi, arrivano i soldi, sapete che è un'opera che doveva, parliamo di 2016, 2017, ecco quelle cose non vanno mai come dovevano andare, mi dico che sono un ragazzo fortunato e quindi dico che la fortuna aiuta gli audaci. Sono fondi che già erano stati individuati dall'Aggiunta Colchiodi che poi per motivi diversi erano stati distratti e adesso poi riallocati successivamente, è chiaro che un intervento che è stato individuato già dal 2016, quindi sono trascorsi già 4 anni, adesso il nostro intento insieme alla provincia è quello di ripartire immediatamente e recuperare il tempo perduto, anche perché questo è un intervento importante che può riqualificare un centro turistico molto importante per la cittadina di Rosetta e per tutta la provincia di Teramo. Approvato il bilancio della Fira, la finanziaria della regione Abruzzo, numeri positivi in vista del progetto che porterà una fusione con Abruzzo Sviluppo, intanto in Abruzzo ha ripreso a lavorare il settore dell'automotive. Assessore Febbo, bilancio positivo per la Fira e si continua a lavorare tra l'altro dopo anche la delibera di Giunta per la fusione con Abruzzo Sviluppo. Un dato positivo che di anni non si verificava e questo dimostra che il cambio c'è stato, un cambio importante, un cambio che porterà questa fusione tra le due società in house che la regione ha per arrivare finalmente ad una finanziaria regionale degna di una banca ai sensi dell'articolo 106, ciò che mancava e ciò che da tempo avevamo scritto anche sul programma prima elettorale e poi di governo per dare una risposta al sistema creditizio che purtroppo oggi in Abruzzo non vede una banca con il cervello pensante in Abruzzo. Tra l'altro è ripresa l'attività industriale nella nostra regione, soprattutto dell'automotive, le aziende hanno ripreso a produrre, è questo un altro dato significativo in questo periodo? Un dato significativo perché la ripresa c'è stata, la vediamo con un po' di preoccupazione perché c'è un drammatico calo dell'immatricolazione, il 94% e noi siamo preoccupati perché in Abruzzo abbiamo diverse aziende importanti che si occupano, c'è un distretto fondamentale. Ci auguriamo, stiamo leggendo, seguendo con attenzione i provvedimenti del governo che speriamo che da un sistema di assistenzialismo che va anche bene, si passi invece a un sistema di investimento sul lavoro e quindi di dare anche risorse per un settore che ne ha sicuramente necessità come già hanno fatto altre nazioni. Qui basterebbe solamente concedere degli sgravi anche di natura fiscale, bonus ecologici per riattivare il motore delle macchine. Siamo un pochino più tranquilli su Sevel che produce un tipo di furgone che non dovrebbe, ci auguriamo avere grossi problematicità, chiaramente ogni nostro discorso viene rinviato a settembre-ottobre dove cominceremo a vedere che cosa si sta mettendo in campo. Tra l'altro lei nelle prossime ore, Sessore, avrà anche importanti incontri, restando in argomento. Sì, noi ci confrontiamo con le organizzazioni datoriali e sindacali su cui c'è stato un confronto indiretto tramite lettere, invece oggi lo facciamo direttamente noi per spiegare le ragioni che ci hanno visto portare in aula un provvedimento secondo noi urgente e su cui vogliamo avere anche la loro condivisione e magari vedere di trovare anche correttivi e suggerimenti che loro ci possono proporre. Mi sembra che però tutto ciò che c'era stato indicato precedentemente sia stato calato almeno con le risorse che avevamo disponibili a 15 giorni fa quando siamo andati in Consiglio. Oggi c'è un confronto serrato con il Governo e con la Comunità Europea che potrebbe mettere in gioco altre risorse ancora più importanti e quindi su questo sono certo che troveremo una via comune di intenti. Il Vescovo dei Marsi, Monsignor Pietro Santoro, ha compiuto 50 anni di sacerdozio ma la ricorrenza non è stata festeggiata con la comunità a causa del Covid ovviamente con la comunità diocesana di Avezzano. Il servizio è a cura di Gioia Chiostri. È stato per me quest'anno un evento che ho vissuto nella preghiera e a livello soprattutto interiore. Causa pandemia ho evitato celebrazioni ufficiali. Gli anniversari vanno tenuti bene a mente, ricordati, annotati nel libro mastro della memoria ma soprattutto festeggiati. 50 anni fa, il 17 maggio del 1970, il Vescovo dei Marsi Pietro Santoro venne ordinato sacerdote per mano di sua santità Paolo VI. È stato scelto da Dio il mistero della vocazione e inviato, mandato per il popolo di Dio. Il fatto quindi che ho rinviato alla celebrazione non è un fatto mondano, chiamiamolo così. È un fatto veramente ecclesiale, profondamente ecclesiale. Eravamo 290 diaconi provenienti da tutto il mondo. Io fui inviato dalla diocesi di Chietivasto. So ovviamente, come tutti sanno, che la diocesi di Avezzano inviò per essere ordinato Don Antonio Salone che è l'attuale parroco dello Spirito Santo. Quest'anno ricorre il mezzo secolo di missione pastorale. Un fratello per tutti, soprattutto per i più deboli, un padre vigile e sempre attento, un prete, un pastore di grande umanità e misericordia. Noi guardavamo il Papa, lo ascoltavamo, aveva gli occhi lucidi, aveva il cuore veramente innamorato dei sacerdoti. La fiammella della spiritualità ha bisogno di bruciare, è vero, ma anche di non assopirsi mai. Fare memoria significa rivivere nell'oggi. Io rivivo ancora oggi la commozione di quella sera. Ma la commozione è dovuta soprattutto al fatto di capire che in quel momento, lo dico per me, ma per ogni sacerdote, in quel momento eravamo tutti quanti dentro una grande rete. Eravamo pescati da Dio, ci siamo lasciati pescare. Andiamo ora a Pescara dove prosegue l'iniziativa SOS Spesa, fortemente voluta dal gruppo cittadino dell'Udc, con la consegna di pacchi alimentari donati dai cittadini. Vediamo. Un impegno importante da parte dei sostenitori dell'Udc, partendo dai giovani, poi i senior e le donne che si stanno distribuendo equamente. Come accade? Che noi abbiamo sempre avuto il gruppo, ovviamente, con il nostro segretario che lavora smart da casa, le persone sanno di questa attività, si prenotano, noi valutiamo la situazione con il modello ISE e quant'altro, e poi personalmente io, insieme a un volontario, vado a casa loro a portargli il pacco. Si è suddiviso il nostro lavoro in due momenti. Il primo momento, durante l'emergenza Covid, abbiamo istituito quel numero che voi sapete, che voglio ripetere ancora ai cittadini che ne avessero bisogno della spesa, 085-4283-464, che è ovviamente il numero del gruppo Udc al comune di Pescara, abbiamo suddiviso in due parti, come dicevo prima. La prima era quella di fare la spesa a casa delle persone quando c'è stato il lockdown. Adesso invece ci siamo resi conto che la situazione è gravissima dal punto di vista alimentare, quindi perché persone che ancora ricevono la cassa integrazione, le mille euro della regione che tardano ad arrivare, il governo che è la titante su tutti gli aspetti, per cui ci siamo messi in moto e abbiamo organizzato appunto questa raccolta di beni. Posso dire che fino ad osso sono partiti per le famiglie di Pescara, dico solo Pescara, circa 80 pacchi, quindi 80 famiglie sono state ovviamente accontentate. È un'iniziativa lodevole, ma c'è stata anche una risposta importante e esemplare da parte dei pescaresi, perché l'idea dell'Udc è un'idea che ha fatto sì che tante persone portassero una parte della loro spesa all'interno del nostro carrello per i più poveri. È un Udc in movimento, un continuo movimento, le iniziative che sono state fatte servono anche da sprono agli altri partiti che compongono la maggioranza della nostra città di fare e di fare sempre di più. Questo è un motivo anche di permettere al sindaco e alla nostra amministrazione di puntare su quelle che sono le iniziative necessarie per questa città e per la ripresa. Questa città dopo il periodo di lockdown è una città che veramente fa difficoltà ed è in difficoltà per ripartire. Abbiamo bisogno di un impegno forte in mezzo alla gente e in mezzo ai pescaresi. Questa iniziativa è nata in quel periodo brutto e adesso ci troviamo in una fase di ripresa. Speriamo che possa essere di esempio per tutti i partiti della maggioranza e per il sindaco di Pescara e soprattutto per i nostri cittadini. Cambiamo argomento. Una serie di foto nei pressi dell'arco di San Francesco a Penne per rendere omaggio al duro lavoro degli operatori sanitari e non solo dell'ospedale San Massimo. Il servizio è a cura della redazione di Vestina News. Un poster all'ingresso della città di Penne per rendere omaggio agli operatori sanitari del San Massimo che in prima linea hanno combattuto il Covid-19, un tributo dovuto a chi in questi mesi ha retto l'impatto violento del Covid-19 mostrando se mai ce ne fosse stato bisogno l'importanza dei presidi spedialieri periferici. Tra le foto anche il sindaco Mario Semproni, prima vittima del Covid e poi in prima fila a combatterlo. Esattamente. Questo è uno spazio che normalmente viene occupato da immagini che artisti, fotografi realizzano. In questa occasione invece lo spazio è stato dedicato in occasione dell'epidemia Covid a chi ha prestato il proprio operato per salvaguardare la salute dei cittadini dell'intera area Vestina e devo però precisare che le immagini che vedete non raccolgono tutti quelli che hanno dato la loro opera e che si sono impegnati perché per esempio guardando bene le immagini non trovo i colleghi della rianimazione, i quali ovviamente erano così impegnati nel prestare la loro opera di soccorso a queste persone che loro curavano e quindi manca un pezzo fondamentale importante, ma io ci tengo a dire che c'erano e ci sono anche loro. Ecco sindaco, l'auspicio che presto questa parte di mura della città di Penne torni presto ad ospitare fotografie felici che riguardino le bellezze di Penne e dell'area Vestina. Sicuramente questo è il mio sogno, il mio desiderio perché vorrà dire che avremo superato l'emergenza, però io voglio sempre raccomandare ai cittadini di Penne ma ai cittadini anche dell'intera area Vestina che queste immagini devono essere immagini che devono ammonire chi invece crede che il Covid sia soltanto così un qualcosa di passaggio già superato ed evita di portare quei presidi che invece sono fondamentali tipo le mascherine e i guanti. E adesso lo sport, parliamo di calcio. Tra poco più di due settimane riparte il campionato di Serie B, anche se il 17 ci sarà il recupero tra Ascoli e Cremonese. Fine della stagione regolare il 1 agosto, finale di ritorno il 20. Tre saranno i turni infrasettimanali mentre c'è il via libera alle cinque sostituzioni. Il punto nel servizio di Jacopo Forcella. La Serie B riparte nel weekend del 20 e 21 giugno, questa la decisione dell'Assemblea in videoconferenza di ieri. Dunque ci siamo, tra poco più di due settimane si tornerà sul terreno di gioco per disputare la giornata 29, quella dello scorso 14-15 marzo, mai disputata a causa dell'epidemia Covid che iniziava a farsi strada in maniera tragica nel nostro paese. Dunque all'Adriatico ci sarà Pescara Juve Stabia. La gadetteria però avrà un antipasto mercoledì 17 con il recupero della sesta di ritorno tra Ascoli e Cremonese, gara che a fine febbraio non si giocò perché nella cittadina Lombarda la situazione era già molto seria. Dieci giornate di stagione regolare in sette settimane con tre turni infrasettimanali, tutti di martedì, il 30 giugno, il 14 luglio e il 28 luglio. Ultima giornata di regular season il 1 agosto, inizio dei play-off il 4 agosto e finale di ritorno il 20. Play-out invece il 7 e 14 agosto. Previsti orari preserali e serali, il primo slot o alle 18.30 o alle 19, l'altro o alle 20.30 o alle 21. Per quanto riguarda la post-season tutto confermato in alto, la prima e la seconda classificata salgono direttamente in Serie A, la terza viene invece determinata mediante la disputa dei play-off che si giocano. Se fra la terza e la quarta non ci sono più di 14 punti di distacco, fra le sei squadre arrivate in classifica dal terzo all'ottavo posto. Prima ci sarà il turno preliminare. La gara è di sola andata tra la sesta e la settima e fra la quinta e l'ottava e prevede in caso di parità dopo 90 minuti la disputa dei tempi supplementari. In caso di ulteriore parità non si disputano i calci di rigore, ma vince la squadra meglio classificata nella regular season e poi via via si va verso la finale del 20. Per quanto concerne l'ultimo atto, le vincenti delle semifinali disputano gare di andata e ritorno, quest'ultima in casa della meglio classificata in campionato. In caso di parità di punteggio dopo 180 minuti si tiene conto della differenza reti nelle due partite. In caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra meglio posizionata in classifica al termine del campionato. Solo nel caso in cui le due squadre avessero terminato il torneo con lo stesso punteggio in classifica, la gara di ritorno prevederebbe anche i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. In basso retrocesse direttamente in Lega Pro le tre squadre ultime classificate, la quarta viene individuata da due gare di andata e ritorno fra la quart'ultima e la quint'ultima se non hanno più di quattro punti di distacco. In questo caso retrocede direttamente anche la quart'ultima classificata senza la disputa del play-out. In caso di parità dopo i 180 minuti il regolamento ricalca quello della finale play-off. L'altra vera grande novità tuttavia sarà l'apertura alle cinque sostituzioni. Via libera come richiesto dalla federazione ai cinque cambi da distribuire in un massimo di tre momenti durante la gara. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordo che tutti quanti i servizi sono online sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. Vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle 21 su TV6 con velò la trasmissione sul mondo del ciclismo ideata da Luciano Rabottini e condotta da Jacopo Forcella. Alle 23 poi tornerà l'informazione con l'edizione della notte del TG6. Per ora è tutto, grazie e buon proseguimento. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.